Io credo che vada costruito un meccanismo di green pass più leggero che però risponda a un principio che è un principio di buonsenso se tu non ti vuoi vaccinare o io ti obbligo ma se non posso obbligarti l'alternativa è quella di dirti certe cose e non le puoi fare perché il costo della tua non vaccinazione lo paghiamo tutti e allora o siamo tutti sulla stessa barca ci vacciniamo tutti, affrontiamo tutti questo virus insieme oppure chi decide di levarti è fattibile che dice a uno no non sali sull'autobus proprio in modo molto, visto che lei si tratta da fare il sindaco Io secondo me è accettabile innanzitutto a scendere innanzitutto che lo si faccia sugli assembramenti, gli eventi i luoghi più frequentati e poi si arrivi anche a quello secondo me c'è anche un altro elemento, questo è correttissimo cioè l'elemento della negazione del dato della verità che è in fondo una grande costante del dibattito pubblico italiano lo è sempre stato, lo è su molte altre cose pensate sul bilancio italiano che si pensa illimitato sulla questione dell'immigrazione che è stata dibattuta in modo completamente teorico senza mai evidenze di numeri allora tutto questo determina quel fatto che diceva prima lei cioè che le persone quando tu dici guarda c'è un rischio bisogna stare attenti si può richiudere, la risposta è vedi tu ci godi perché tanto guadagno uguale questo è dall'inizio della pandemia che va avanti così cioè è dall'inizio allora su quello che bisogna essere molto fermi è quello di spiegare esattamente come stanno le cose senza avere nessuna paura del fatto di venire sommerso dagli insulti di una minoranza che è molto più vocale e che sostanzialmente agisce verso la maggioranza dicendogli non è vero, non guardatela questa realtà è come quando dicono ci sono i soldi per tutti, per le pensioni lei ha ragione però forse ci sono alcuni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti